Allora, torniamo a noi, torniamo a noi, quindi torniamo sui grandi capolavori, sui capolavori di Stefano De Carni meravigliosi, sulle opere davvero... Stavamo leggendo la rossa, l'estrofessione rossa per il carissimo amico che ci chiedeva al centralino la bellezza e l'importanza di questo percorso e ovviamente... Strabiliante, stra-bi-li-ante cari amici, stra-bi-li-ante davvero. Poi andiamo a leggere la numero 4, la numero 5, la numero 5 del grande De Carli, opera davvero memorabile, opera davvero stra-bi-li-ante per quanto concerne il valore della superficie, il valore della superficie meravigliosa. E quindi, ovviamente, su questa numero 5 meravigliosa, su fondo bianco, devo dire che avete ragione finita, cari amici, di chiedermi tre capolavori, tre capolavori, ancora una volta ad una condizione economica piccola, piccola. Sono, come dire, l'apertura di oggi, attraverso la quale noi scaldiamo i motori per poi addentrarci nel vivo dei giganti della storia. Ci serviva, ovviamente, un artista straordinario come De Carli che ci consentisse di aprire questo bridge, questo ponte, questo viaggio meraviglioso che poi, ovviamente, ci porta di là, sui pilastri della cultura contemporanea. Nel frattempo, qualunque altra richiesta, qualunque informazione, qualunque necessità, 030 80 86 260, chiamate il nostro centralino e domandate. No, no, assolutamente. Numero 5, meravigliosa. Cari amici, costa ancora nulla, costa ancora nulla ed è una delle certezze più raffinate e rappresentative della storia del nostro tempo. Questo significa per te leggere e valutare uno dei capolavori più rappresentativi. Guardate che lavoro, guardate questa bianca, che superficie meravigliosa. Signori, guardate che è meraviglioso. Nel frattempo ci stanno arrivando, vedo dal nostro maxischermo, una serie di indicazioni finite da parte di nostri amici, proprio perché c'è scritto Gianluca Gaudio è in diretta, ora. Vedo il ritorno dal nostro maxischermo, molto bene, molto bene. Quindi abbiamo aperto un altro canale, un'altra via di comunicazione, un altro percorso. A breve, sui giganti, riprenderemo alla diretta, anche sui social, quindi tenetevi forte, va bene? Questo, cari amici, non è uguale. Poi, sì, comunicate con il nostro centralino, comunicate via WhatsApp al nostro numero di telefono. Insomma, ribadisco, siete nella condizione più raffinata, di potere e più esclusiva, comunicare con noi attraverso i social, il nostro canale Sky, seguiteci in streaming, attraverso WhatsApp o il nostro centralino e chiedere, 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 ok? Allora, questo è uno dei capolavori fondamentali di Stefano De Carli. Cari amici, non perdete l'occasione più giusta. Guai a voi a perdermi l'occasione fondamentale di poter considerare, di poter valorizzare, di poter selezionare il vostro percorso, oggi che avete la fortuna di scegliere, di leggere e di considerare uno dei più grandi momenti della storia dell'arte contemporanea. Questo, cari amici, significa leggere le opere che contano. Cari amici, guardate che questo è scioccante, questo è uno dei percorsi meravigliosi, questo è uno dei percorsi strabilianti, strabilianti, che potete ancora considerare, valutare ad una condizione economica piccola piccola, ad una condizione economica piccola piccola. Questo significa poter investire su un genio. Perché? Perché intanto si colloca accanto, ma cari amici, parliamoci chiaro, di nuovo non c'è più nulla da scoprire. Ormai l'uomo è stato sulla Luna, i pianeti sono stati scoperti, non è che dici, sai, bisogna inventare. Allora è ovvio che ci siano dei parametri, ovvio che ci siano dei percorsi e dei momenti che appartengono alla storia, che vengono rivisitati, vengono, come dire, rielaborati. Come voler andare al ristorante e pensare di mangiare qualcosa di, oh, meno male, il gusto, comunque i piatti. Allora cambia il modus operandi, come elaborare determinati piatti. Ma gli ingredienti ci sono sempre quelli. Poi, chiaro, ci sono i fuoriclasse, ci sono bravi cuochi, e ce ne sono altri sì, altri che sono normali. Benissimo. Ecco, possiamo dire che De Carli appartiene a quelli stellati, appartiene a quelli, come dire, della guida Michelin, come li chiami? Esatto, tu che sei esperto di cucina. Esattamente. E che oggi siete ancora nella condizione di poter eleggere. Però per la caratteristica dei suoi contenuti, per la caratteristica dei suoi elaborati, e la superficie diventa l'elemento che contiene questa grande opportunità, questa grande, come dire, espressione, un'espressione che è alla base della storia dell'arte, che vanta antenati o parenti, se vogliamo, a lui vicini, straordinari, dai quali ha, come dire, avuto lo spunto per arrivare a questo percorso, e che oggi, logicamente, potete fare vostro ad una condizione di prezzo piccola piccola. Va bene? Allora, rivediamo in maniera straordinaria anche la numero 5, che abbiamo visto, ma rileggiamola proprio nella sua bellezza, nei suoi ovali, nella sua condizione espressiva straordinaria, e poi andiamo anche a leggere la numero, questa è la 5, la bianca, la 4 è la rossa, la 5 è la, come dire, la bianca, eccoci, e... Quello rosso? Incredibile. Adesso, scusate, ci stiamo preparando. Bellissimo. Straordinario, guarda che superficie. E andiamo sull'azzurra, e andiamo sull'azzurra, la numero 6. Stra-di-di-ante, stra-di-ante, signore. Fantastica. Andiamo sull'azzurra, la 6. Eccola qui. E' stra-bili-ante. Questa, cari amici, non ha eguali. Quando vi dico valutate le opportunità fondamentali attraverso le scelte più significative, intendo dire questo, intendo dire questo, queste oggi sono le scelte più esclusive. Allora, siamo nuovamente connessi, qui mi danno dalla regia, si è risultate, oggi c'è un po' di movimento tecnico, siamo nuovamente connessi con i social, quindi continuiamo a riepilogare il grande vantaggio di esserci quest'oggi, con la numero 4 di Stefano De Carli, un'opera sublime, una delle opportunità più affascinanti nell'ambito di questo gioco, di superfici, di rimandi, di colore, e soprattutto è uno dei percorsi fondamentali che potete garantirvi il lusso di scegliere a delle cifre piccole piccole e di poter considerare ancora una volta in maniera straordinaria poche migliaia di euro. La 5, la 5, l'estroflessione bianca, quindi continuiamo, ribadisco, cari amici, siamo multicanale, siamo ormai in una struttura multicanale, ci potete seguire dallo streaming, ci potete seguire dai social, dal nostro canale Sky862, quindi ancora una volta abbiamo completato questo grande viaggio, questo grande percorso. La 5 non la perdano. Soprattutto adesso sapete che siamo nella condizione di essere indiretta in questo preciso momento, su più fronti, su più canali. La numero 5 è meravigliosa, la numero 5 è l'estroflessione bianca fondamentale, cari amici, a 4-5 mila euro, questi sono i capolavori che contano. Questi oggi sono i momenti che ribadisco, accanto ai suoi precursori, Bonalumi, Castellani, Scheggi, De Carli si colloca in una dimensione ancora più poetica, De Carli si colloca in una dimensione ancora più affascinante, proprio perché lavora la superficie, la manipola, la trasforma, e la superficie ci sa raccontare ciò che precedentemente, ovviamente, i pittori normali dipingevano. Allora ecco il senso di queste superfici concave, di queste superfici convesse, perché? Perché poi, sono tutti monocromi, ma a seconda dell'incidenza della luce cambia l'aspetto della superficie. Questa parte che è meravigliosa, perché ha un livello di perfezione assoluta. Cari amici, lavorare a questo livello, guardate che è difficilissimo, guardate che lavorare, ecco perché vi ripeto, chiamatemi allo 030 80 86 260 e domandate, potete chiedere di valutare, di considerare, di pagarvi in un anno a interessi zero, uno dei capolavori fondamentali del grande Stefano De Carli. Ne avete tre, guardate la bellezza della numero 6, guardate che cos'è la bellezza di questa numero 6 incredibile, guardate che è scioccante, guardate che è davvero clamorosa, guardate che è davvero sublime, potere leggere, potere riconoscere, potere valutare ad una condizione irripetibile. Abbiamo fatto vedere le onde del mare, vieni, questa increspatura leggera, e poi questa superficie così trattata, così strutturata, così, come dire, sostenuta e dal colore e soprattutto dalla materia, dall'estroflessione. grazie a tutti. Grazie. I grandi capolavori... Strabiliante, strabiliante, strabiliante davvero, sì, allora, ditemi se c'è uno di questi grandi capolavori che amate rileggere, proprio, sì, dimmi, sì, quale? C'è un catalogo, è stato in mostra in Spagna, era in mostra in Spagna, questa azzurra è straordinaria, l'abbiamo visto anche su una superficie bianca, total white e sublime, poi ripeto, guardate come è lavorata la superficie, queste sono le opere che oggi contano, queste sono le opere che oggi cambiano radicalmente il valore della cultura contemporanea attraverso quelle condizioni, attraverso quelle opportunità che, ok, solo con i grandi De Carli potete ancora valutare e riconoscere, questa non ha uguali, questa non ha uguali e poi la grande, la meravigliosa numero 4, la sublime e straordinaria numero 4, io direi cari amici che questa è appartiene veramente ad un miracolo, guardate che fascio di luce, è tutta rossa, attenzione, cioè quella che vedi, no, no, è tutta rossa, total red, quello che vedi è proprio il risultato ottimale dell'estrofessione, vedi? Tutta rossa, ok? E la luce è bellissima, vedi come cambia? Questa è la magia, è la magia delle grandi estrofessioni. Devo dire che i cari amici che questi sono fuori classe e a 3-4 mila euro fatevele mettere da parte, fatevele mettere da parte perché è incredibile, perché è incredibile, perché è incredibile davvero. Ci siamo? Come? Va bene, va bene, facciamo come tu ho detto, assolutamente. Sì, 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 poi lo richiamo. No, va bene, giovedì, no? Giovedì lo consegniamo, sì, 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 non c'è nessun problema. Va benissimo, va benissimo. E quindi tre opere superbe, tre opere, dieci minuti, ci dieci minuti lo so, a dieci minuti dobbiamo sapere che ore saranno tra dieci minuti. E quindi ancora una volta il vantaggio di leggere tre grandissimi capolavori. Numero 4, fondo rosso, ve lo ripeto, il numero 4, fondo rosso, vieni, numero 4, sublime. Seguitemi, cari amici, non distraetevi. Al resto ci penso io, non preoccupatevi. Ecco, quindi già, ecco, quindi questo è il capolavoro, questo è il capolavoro di De Carli. Poi, accanto, il numero 5, Total White, Total White, meraviglioso. Total White, stupendo. Straordinario, straordinario. Eh? La pancia, diciamo, è bella, è grande. Bellissimo, bellissimo davvero. E chiudiamo con l'azzurro cielo. Signor e cari, se c'è, sì, come avete, giovedì glielo portiamo, non si preoccupi, va benissimo, va benissimo. C'è qualcosa che so già, è stato scelto e valutato dal nostro centralino. Se c'è ancora una di queste grandi opere che amate a rileggere, ditemelo ora al centralino, ok? Ditemelo adesso alla 030-80-86-260. Allora, cari amici, con le tre opere di Stefano De Carli, credo che qualcosa sia già in conferma al centralino, noi ci dobbiamo spostare. Per spostarci utilizzeremo il nostro promo, che sarà un, come è, un tam-tam, il tam-tam degli indiani. Ditemi come lo ascoltate, come lo sentite, anzi, io farei una cosa, lo manderei in diretta anche per i nostri amici. Vabbè, dopo lo faremo, dopo lo faremo, dai, così adesso piano piano riusciamo a strutturarci.